Una questione importante soprattutto per i contagi, soprattutto per i più piccoli, prorogare l'apertura delle scuole. Lei cosa ne pensa? È stata una decisione molto saggia perché reimmettere di nuovo i bambini o comunque gli adolescenti, insomma quelli che vanno a scuola insieme in un momento dove probabilmente ci sarà il picco di casi di Covid per questa invernata, è una decisione molto saggia. D'altra parte ritardando l'ingresso a scuola si darà la possibilità di eseguire anche il secondo vaccino perché tra i 5 e i 12 anni hanno cominciato a vaccinarsi non prima del 15 dicembre, quindi si darà la possibilità di immettere a scuola gente, bambini, che ha avuto la seconda dose e sappiamo che è con la seconda dose che si ottiene un'immunità veramente efficace nei confronti di SARS-CoV-2. A scuola ci si arriva per lo più con i mezzi pubblici e molte volte magari lì sopra non si sta con la mascherina e quindi il danno che non fai a scuola l'hai fatto precedentemente e poi magari penso che sia piuttosto complicato, comunque difficile, controllare i bambini, soprattutto i bambini più piccoli a far mantenere la distanza o far mantenere la mascherina. Questo vale anche per gli adolescenti che sappiamo che è un'età particolare dove giustamente un adolescente non può pensare alla malattia e alla morte ma deve pensare comunque al gaudio, a divertirsi perché in questa maniera si cresce pure. Però questo è un momento dove tutti devono fare un sacrificio anche più piccolo. Grazie. 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 Grazie.